Non mani deve andare a qua Che paga Ma sempre qua Dai, tieni una scala Io tengo l'altra Tu tieni ponte Io tengo l'altra Ti porto dei bagni Scusa, non devo tenere io ponte? Eh sì Io vado di qua Eccomi raga, pronto Aspetta che mi apro la porta di un fisico Scusa, sono in due o tre da Parlami, parlami Eh, sono due o tre in pappi Ti l'hai ammazzati? Falcazzo Che cosa fai? Sei in uffici? Sì, so io, so io che faccio Porca p***a Mettiti là sopra, mettiti là sopra Lassopra dove? Nel punto nostro? Oppure ci camperiamo nei bagni? Eh? Io però vado ad andare al punto nostro Vabbè L'hanno fatto? Uno, no, uno l'ho fatto Sento rumori brutti Torno indietro sempre da Da qua Ok, sono in Sono sempre in pumping loro Chi c'è sopra? Sei tu? Ah, io sono sotto bagni È a breccia, mi sa Minchia, non è riuscita ad ammazzarmi Spostati Sì, ma affatto Ma non è possibile Non è possibile Ok, non ti preoccupo Sì, ma vai, vai Vai un bagno e me lo scroggio Sono altri due Se ne ha fatto uno Sicuro tre Madonna Uno l'ho tirato giù Grazie Il cappellino bear Quello, cazzo Il cappellino ha tritato Sono sempre in due Arriva Il cappellino ha tritato Io sono pronto Bello in cazzale Peccato che tanto Sto l'urrivo in Comunque non si sente che apri le porte Ecco, sta col casco Continua ad ammazzare gente Che zancio Eh, quello è il gioco Non so neanche quanti me ne son fatti Ancora 24 kg di roba addosso Coi si è startato No, no So pronto Buon introllo Ah, per fare Cosa è la custom No, pure factory Sto con l'Hp Cazzoso Ok, ok Ci sta Ho comprato pure l'occhialetto da solo apposta TAC Bravi solo un secondo eh Sì sì PagmAh Quattro 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 sento un cazzo col colpac parca puttana no, non gli ho preso la roba, ma che cazzo faccio? vai tranquillo tanto, aspettiamo no no adesso esco, se riesco ok, sto già immaginando tutto questo cazzo di stascia no, non, non, non no, non, non Grazie a tutti. E che mi sa che ci sono morti i due mongoli. Grazie a tutti. Ah, io devo lasciare il mio porto il documento. No, devo lasciare quel documento lì nel casottino sopra, vicino al ponte. Sì, sì. Sì, sì. Si anche diventa grossina. No, questi erano grossini, mi pare. Pensate prima ce l'avevo, siamo usciti, non l'ho fatta la quest. Guarda, abbiamo fatto quella vacca. Qui sono morti, eh? I due mongoloidi. Cosa avevano di armi gli altri due? Cazzo. Forca cazzo. Mi ha già andato a prendere ormai. Vado a estrarre, sto estraendo. Chi troppo vuole. Già ormai. Fatta cazzo. Vado. Vado a estrarre. Grazie.